Ciao dai Mike e benvenuti ad una nuova puntata della Tranchart, la classifica delle 20 canzoni trance della settimana presentate da me ai Mike ogni domenica qua sul mio canale YouTube pronto a farvi emozionare con un'ora di pura musica trance. Oggi avremo due nuove entrate che le troveremo praticamente in apertura della nostra classifica che parte e inizia subito con la prima delle due nuove entrate. Alla posizione numero 20 incontriamo una canzone che appunto entra è di Dan Stone House, intitola Messi. Ciao! Grazie a tutti 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 Al 15 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti